Buoraci bravissimi tutti, in particolare Cevni che col primo commento sotto al video ha riconosciuto immediatamente Fighters. La risposta più creativa è quella di Erics Xen che scrive Sagge parole, so che mi faranno riflettere ancora a lungo. Grazie, veramente grazie. Ma passiamo alla prossima sfida. Di che gioco si tratta? Mi raccomando, solo risposte sbagliate. Poracci bentornati o benvenuti sul mio canale, l'unico di YouTube Italia dove si parla di videogiochi anche di quelli che in Italia non si fila nessuno, lo so. Oggi torniamo a fare gli unboxing Poracci e in particolare questa volta sono in super hype perché andremo a spacchettare una Collector's Edition gigantesca. Di un gioco che è stato recensito con super botoni e che è anche uno dei più attesi su Nintendo Switch sin dal suo annuncio nel 2017. La copertina l'avete vista, gli indizi sono chiari, quindi avete capito a cosa mi riferisco. Sto ovviamente parlando di Shin Megami Tensei 5 nella sua versione Fall of Man Premium Edition. Quindi benvenuti a quest'unboxing poraccio, ma prima di iniziare come al solito vi invito a supportarmi nella conquista non violenta di YouTube Italia. Lasciate un like e iscrivetevi al canale attivando la campanella delle politifiche. Basta solo questo. Inoltre vi ricordo che stasera ci sarà la live esclusiva aperta a tutti gli abbonati al Porion. Se siete interessati trovate il link in descrizione. Ho detto tutto, iniziamo! È sempre bello trovarsi di fronte a confezioni così particolari e tra le tante Limited che sono entrate a far parte della mia collezione non avevo visto nulla di simile. La Collectors che più gli si avvicina è quella di Breath of the Wild, ma le dimensioni sono leggermente differenti. Quella di Shin Megami Tensei 5 è più snella e leggermente più bassa. Inoltre qua abbiamo una sovracopertina che andrà rimossa prima di poter accedere al contenuto della Collectors. Sul fronte della copertina esterna abbiamo l'artwork del gioco con quelli che credo siano svariati demoni, lupi, angeli e il protagonista pronto a darvi una pizza in faccia di rovescio clamorosa. Sul lato sinistro un altro artwork con il personaggio principale, mentre sul lato opposto il logo del gioco è un recap del contenuto sia in inglese che in francese, tipico di tutte le Collectors europee di Nintendo. Sul retro invece una rappresentazione grafica di tutti gli extra della Limited, e sì, proveremo anche lo zainetta a tracolla, e poi qualche screen di gioco, degli artwork, e la frase. La divinità ti attende, tradotta in tutte le lingue possibili e immaginabili del vecchio continente, anche quelle che non riesca a leggere. Una volta tagliati con molta cura gli adesivi che trattengono la cover esterna, possiamo sfilarla e ammirare l'artwork stampato sul box, che raffigura la sagoma della forma umana del protagonista, ricorrendo sempre al dualismo cromatico tra oro e nero, che caratterizza tutta l'identità estetica di questo quinto capitolo. Ora però è giunto il momento di sdragliare la confezione e procedere all'unboxing. Bene, bene, siamo giunti al momento che preferisco, quello dello spacchettamento. Quindi procediamo. La prima cosa che ci accoglie, una volta aperta la confezione di cartone, che non si regge neanche da sola, una confezione un po' poraccia, eh? È quello che penso sia lo zainetto. Lo sling bag. Ovvero lo zainetto a tracolla. E questo lo scartiamo subito e lo proviamo in diretta. Eccolo qua. Allora, l'idea per carità è molto carina, ma mi sembra un po' piccolino. Direi che è proprio il caso di provarlo su un trentenne alto 1,90 m. Vediamo che effetto fa. È per bambini, ma non sono un bambino. Che è qua tutto che è svolazzo? Ti aguarda la divinità. Dentro c'è un po' di imbottitura, il libretto di istruzioni dello zainetto e la sagoma di Jack Frost, magari sto dicendo una cavolata, comunque di uno dei demoni arruolabili nel gioco. Se non sbaglio, perdonatemi, non sono così esperto della saga di Shin Megami Tensei. Comunque, tolto lo zainetto dall'equazione, possiamo procedere con l'unboxing dei restanti contenuti della Fall of Man Premium Edition. Abbiamo come prima cosa la colonna sonora su due dischi. Attenzione, ben 10 tracce sul primo disco e 25 sul secondo. Non male, non è solo una selection. Forse è la colonna sonora nella sua interezza. Bello, molto elegante, anche se ormai non penso ci sia qualcuno che utilizzi i cd per ascoltare la musica. Avrebbe fatto comodo magari un codice di download, solitamente si fa così con cd e vinili da accompagnare con questa edizione su disco per facilitare insomma la riproduzione. Però insomma, la cover è molto elegante, la confezione è ultra slim ma fica e come bonus lo promuovo. Poi, andando avanti, penso che questo sia l'artbook intitolato The Forbidden Book of Demons, il libro proibito dei demoni. Lo andiamo a scartare immediatamente. Vi posso dire già da adesso che al tatto è pesante. Il libricino effettivamente è un po' compatto ma sembra bello spesso. Le pagine hanno un bel peso. Sfogliamola al volo e vediamo come al solito di fare eccessivi spoiler. Qui abbiamo l'index di tutti quanti i demoni. Bellissimo, bellissimo. Con gli artwork e una breve descrizione di tutti i demoni arruolabili. Molto bello, molto bello. Ed effettivamente questo è il Forbidden Book of Demons. C'è un artwork però rivenduto come Demondex. Ecco, l'index di tutti i demoni. Carina come idea, ci sta, ci sta. È il bestiario del gioco. Solitamente veniva dato il bestiario, mi ricordo quelli di Final Fantasy, venivano allegati alle guide strategiche. Era molto interessante come cosa. E questa invece è parte della Fall of Man Premium Edition. Ci sta anche questo. Ci dirigiamo verso la parte finale. Con tanto di steelbook. Eccola qua. Anche in questo caso si ripete l'artwork della front cover. Questa volta spezzato tra fronte e retro. Classica steelbook. E qui abbiamo le due forme del protagonista. Umana e credo demoniaca. Però una steelbook onesta. Che fa il lavoro suo. Non eccezionale ma ci sta, ci sta. E per finire abbiamo il gioco. E poi, ora ci vi devo fare un appunto su questa confezione. Che forse è l'elemento più deludente in assoluto. Gioco. Inversione. Triangolo. Rosa o viola. Che riprende l'artwork presente sul retro della confezione. Con tutte quante le lingue presenti nell'edizione europea. Lo andiamo a scartare. Ma come ormai già sappiamo. Oltre alla cartuccia ci sarà solamente l'avvertenza per l'epilessia scritta in francese. Poro Prediction. E infatti è così. Di nuovo stesso artwork è spammato ovunque. Era carino la prima volta. Era carino anche la seconda. Rimane carino anche la terza. Ma forse potevano usare qualcosina in più. Questa è la cartuccia. Qualcuno nei commenti di solito suggerisce che queste cartucce andrebbero assaggiate. Ma penso di aver fatto già abbastanza provando lo zainetto. Quindi magari sarà per il prossimo unboxing. E questo poraccia era tutto il contenuto di questa edizione. Che è un po' non dico scarna. Un po' basic. Un po' essenziale. La cosa dello zainetto è come direste voi giovani abbastanza cringe. Forse è stato un pochino più grande. Avrei anche capito. Ma così è sostanzialmente inutilizzabile. Ma la critica vera che devo fare a questa Fall of Man Premium Edition. Perché viene indicata come un'edizione di valore. Di lusso. Premium. È che la confezione di cartone fa schifo. E questa in particolare. Penso soffra di un difetto di fabbrica. Ma è sostanzialmente tutta... Non è rotta. Non è rotta. Ma ogni sua componente non è stata saldata. Incollata. Quindi è come se fosse ancora da comporre. Ed è una vera, una vera poracciata. Questo proprio non lo accetto. È inammissibile. Peccato. Uno scivolone da parte di Atlus. O chi si è occupato di distribuire la Limited in Europa. Attenti perché queste cose di base costano un centinaio di euro. Ma se vi rivolgete agli scalper. Rischiate anche di pagarle di più. È completamente... È tutto sfaldato. Sembra... Sembra ancora da comporre. È come se avesse saltato un passaggio nella catena di montaggio. Un vero peccato. Di premium. Non ha nulla. Tolto questo difetto. Che probabilmente mi ha detto sfiga a me. Anzi lo spero. L'edizione la promuovo. Soprattutto per la colonna sonora su 2cd. E l'indice dei demoni. L'indice dei demoni. Molto curati e molto fighe come idee. E niente. Non vedo l'ora di provare Shin Megami Tensei 5. Questa Premium Edition. Sicuramente una bella Collectors. Però di premium ha veramente poco. Peccato. E questo poraccio era l'unboxing di Shin Megami Tensei 5. Fall of Zainetto tra colla Edition. Che ne pensate? Siete naipe per il gioco? Come al solito vi aspetto sotto nei commenti per discutere assieme di questa Collectors. Noi ci vediamo domani per un nuovo video. Voi mi raccomando fate i bravi, riposatevi e nerdate duro. Io sono il poro Zaino, Michele Tensei. Ciao. Ehi 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 fermo. Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa. Ciao.